Buonasera amici, spero che stiate bene, io sto un pochino meglio. Domani è domenica, ogni tanto ci vuole qualche dolcezza la mattina, vero? Quindi io tiro fuori i cornetti congelati e li metto sulla carta forno, nella teglia e li lascio così. Domani mattino li forno, poi domani mattino quando sono al caffè, faccio un live sul caffè e vediamo come sono venuti. Questi sono vuoti, poi li farciremo o con la marmellata di prunie gocce d'oro oppure con marmellata di fichi a gusti, sempre con la marmellata che ho fatto io. Quindi domani mattino ci sarà una colazione diversa, perché ogni tanto bisogna farsi una coccola, che non guasta mai e fa sempre bene a tutti. Un abbraccio a tutti e una buona serata, grazie per la vostra presenza sempre costante. Buonanotte, grazie.